buongiorno benvenuti con il notiziario di prealpina.it che apriamo con la situazione del contagio da coronavirus i dati sono purtroppo in crescita i nuovi casi dell'ultima settimana sono decisamente superiori a quelli della settimana precedente quella a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno ieri 181 i nuovi contagiati in provincia di varese dall'inizio della pandemia e busto la città più colpita con 5.188 contagiati seguita da varese con 4.570 la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi effettuati è ora del 10,7% leggermente inferiore rispetto ai giorni scorsi ma comunque resta preoccupante e si profila dopo venerdì il declassamento della Lombardia da zona arancione a zona rossa maggiori approfondimenti si possono leggere sul giornale in edicola oggi e su prealpina.it e restando sempre in tema di vaccini anti-covid la regione ha comunicato poco fa che ieri ne sono stati somministrati 14.717 nelle strutture sanitarie lombarde dall'inizio della campagna vaccinale il numero raggiunto è di 86.260 e passiamo alla cronaca grave incidente questa mattina agemonia un uomo di 32 anni è andato a schiantarsi con l'auto contro la recinzione di un'abitazione privata è successo dopo le 8 in via Castelfidardo nelle vicinanze del museo Salvini gravi le condizioni del 32 anni che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cittiglio l'incidente sarebbe stato causato da un malore al conducente e passiamo adesso a Varese dove sono iniziati i lavori per la nuova fognatura in via del ponte tra le ferrovie e l'ospediale vediamo come procedono in questo servizio camion escavatori e operai è iniziato in via del ponte a giubiano tra la ferrovia e l'ospedale il cantiere per il rifacimento della rete fognaria l'impresa sta tracciando lo scavo nel primo tratto della via che è quindi chiuso al traffico per poi procedere alla posa delle nuove tubature sul lato destro quindi al confine con l'area delle ferrovie è stato creato un passaggio pedonale la zona è comunque transennata l'esigenza di rifare la fognatura emersa durante i sopralluoghi per i lavori del piano stazioni è stato accertato che la rete perdeva e quindi si rendeva necessario un intervento urgente è un cantiere questo che andrà avanti due mesi e si svolgerà in tre fasi avanzando progressivamente verso la cima della salita di via del ponte i lavori costano circa 100 mila euro e si sommano all'impegno finanziario per il piano stazioni e con questo è tutto vi diamo appuntamento al notiziario delle ore 19 una buona giornata